Sì, è tutto. Sono aperto a tutto. Penso di guardarlo in modo specifico. Se sono un mistero per te, come posso aspettarmi che tu ti connetta? E se sono una persona disperata per la connessione, perché il mistero mi interessa? Voglio conoscerti. Voglio che tu mi conosca. Beh, questa è una donna con cui non vuoi avere a che fare, è una vera affermazione. So cosa pensano certe persone quando mi guardano, fino al fatto che sono muscoloso, sono schietto e ho i capelli corti. Sono un ragazzo, sicuramente una lesbica. Le persone ti mettono in una scatola, indipendentemente da come tu appaia. Successivamente, la mia scatola si verifica se sei onesto e non ti sottometti alle convenzioni sociali. In tal caso, risulteresti spaventoso e pericoloso per gli altri. La realtà è che sono la persona più goffa e amante del divertimento, che potrebbe anche picchiarti se necessario, senza esitazione.